Oggi mi trovo a parlare in un evento trasversale, solitamente io parlo agli eventi sulla SEO e quindi è assolutamente corretto, già ieri siamo andati a mangiare una fiorentina di 8 centimetri, era sangue sangue sangue, nel senso che proprio il sangue aveva diverse sfumature di colore, dal centro fino alla, era un sashimi di manzo fondamentalmente. Abbiamo fatto questa cosa e mi sono, perché vi dico questo? Perché mi sono trovato al tavolo a parlare con persone che hanno punti di vista molto diversi dai miei e quindi dice, beh, no no abbiamo parlato per tutto il tempo di comunicazione, persone che fanno proprio altri lavori e al che voi potreste pensare, è però bello, trasversale, si parla di tante cose diverse. In realtà i SEO già quando si parlano tra di loro, quando si parlano non sono mai d'accordo, fanno finta, no? E quindi c'è tutta una situazione, io metto i piedi sulle traversine perché non sai, allora, l'evento è trasversale, io mi chiamo, aspetta, ho un nome, mi chiamo Francesco Margherita, ho la stessa maglietta, sì è la stessa maglietta, mi piace, si intona con gli occhi, purtroppo non potete vedermi dall'alto, quindi non sarò bellissimo, no? Mi vedete da giù, la prospettiva migliore sarebbe dall'alto. Allora, curo un blog che si chiama SEO Garden e ho sviluppato un gruppo, una community su Facebook che si chiama Fatti di SEO. Come professionista della SEO in Italia sono un po' atipico, ah io guardo qua, perché poi è da dire che ce l'ho qua, ma continua ad affacciarmi a guardare di là, non è normale questo, ma del resto anche c'è di là un relatore americano, si chiama Mark da Philadelphia, che parlerà oggi, ci sono le traduzioni simultanee? Mentre, vabbè, ma tanto voi siete bravi, lo sapete l'inglese, Mark fa tutto uno spettacolo fantastico. Allora, che dicevo? Allora, perché sono atipico in questo senso? Perché vorrei parlarvi di una roba che molti SEO tradizionali non concepiscono a uso di posizionamento. La SEO è l'ottimizzazione per i motori di ricerca che dovrebbe servire ad aumentare la visibilità del vostro sito nelle ricerche di Google. Io vorrei cercare di capire anche quanto ne sapete. Conoscete l'esistenza del gruppo dei fatti di SEO? Chi conosce? Qualcuno di là, ma non tantissimi però, però sapete di che stiamo parlando? Sì, un po' sì. Tutti i designer di moda oggi. Ci sta. E dunque, premettendo che la SEO serve essenzialmente a sviluppare un codice pulito, è una struttura ordinata, serve a escludere pagine duplicate, contenuti ridondanti, serve a escludere elementi sovraottimizzanti per le pagine. Premesso che la SEO guarda anche al server, ma infatti noi potremmo domandarci quanti sono i mestieri della SEO. Nella SEO ci stanno i marchettari, gli sviluppatori, ci sono i coprivater, ci sono che interessano moltissimo, ci sono i sistemisti perché anche il server è importante, i web designer perché la SEO sposa l'usabilità. Una pagina meglio interagita, una pagina che porta gli utenti a fare ciò per cui è stata concepita, è una pagina che probabilmente otterrà un posizionamento migliore, perché Google fa analisi dei nostri comportamenti. Non è quindi soltanto il codice pulito, la SEO tradizionale, che non ve la scordate mai negli altri pantaloni, la SEO tradizionale, perché avere un sito che risponde bene al passaggio del bot di Google, cioè del crawler, di questo software che scansiona tutte le pagine, avere un sito che risponde bene è la condizione necessaria di partenza. Dopodiché però entrano in gioco tutta un'altra serie di cose, sempre di più, sempre di più negli ultimi anni, entrano in gioco figure professionali diverse. I sociologi, ci ho messo un punto interrogativo, perché i sociologi sono quelli che osservano i comportamenti delle persone, no? E le persone sono importanti, soprattutto le persone quando parlano di un brand, aumenti le ricerche su un brand, succede magari qualcosa. Io oggi, riassumendo tutto, vi racconterò come migliorare i posizionamenti su Google per le chiavi di ricerca, quindi quelle che vi interessa posizionare, non lavorando sulle chiavi di ricerca in sé, ma lavorando sul brand. Quindi il brand per la SEO. Quindi non ragioniamo di comprare link, non ragioniamo di scrivere i contenuti che piacciono di più a Google, ragioniamo di cose che di solito sono più interessanti per quelli che si occupano di branding aziendale, però ne parliamo in ottica di posizionamento nei motori di ricerca. Chiaro fin qui? Vediamo dove riusciamo ad arrivare con questo ragionamento. E quindi tutto condensato, parleremo delle chiavi di brand, tipo una chiave di brand è Amazon, di come talvolta una chiave di brand divenga una chiave di ricerca, perché Amazon diventa poi anche una chiave di ricerca. Quindi cosa sono, cosa significano, qual è la differenza con le chiave di ricerca? Poi parliamo di brand building, quindi non più di link building, ma proprio di brand building. Quali sono i meccanismi mentali per costruire, cioè cosa può fare un SEO per costruire la rilevanza di un brand sui motori di ricerca? E soprattutto cerchiamo di capire perché un SEO dovrebbe costruire la rilevanza di un brand, cosa gliene frega un SEO che dovrebbe guardare il codice, il link, eccetera. E dunque, che cosa sono le chiave di brand? Banalmente, il mio blog si chiama SEO Garden, se io scrivo SEO Garden sono primo su Google. Ok? Ho fatto una cosa fantastica, difficilissima. È ovvio che la chiave di brand si posiziona prima su Google, non è il posizionamento che ci interessa, ma il volume di ricerca da un lato e la riconducibilità dall'altro. Mi spiego, c'è una chiave, aspetta, ecco qua, per esempio, se io dico, qua non si capisce tanto, se io scrivo Asso, perché c'è uno che vende scarpe in Italia, si chiama Asso. Ok? Però c'è un'ambiguità, perché se dico SEO Garden, ci sono solo io e quindi non c'è ambiguità. SEO Garden chi è? È Francesco. Va bene? Se dico Asso, c'è il film con Adriano Celentano, poi ci sono associazioni, c'è la pagina Wikipedia del film, c'è Asso Group, Asso S.p.A., Asso, ovviamente l'Asso delle carte, insomma, e Google non riesce tanto a capire, quindi avere un brand riconoscibile è già una cosa, tante volte. Quindi prima di fare la prossima società e chiamarla Sigma S.R.L., pensateci, punto primo. E comunque, se l'avete chiamata Sigma S.R.L. o Asso, genericamente, sappiate che ci sono delle cose che si possono fare per avvicinare una chiave di ricerca ambigua, una chiave di brand ambigua, alle chiave di ricerca che vi interessa posizionare. Qualcosa si può fare per far capire a Google che quando diciamo Asso stiamo parlando di scarpe e non del film con Adriano Celentano? Qualcosa si può fare. Ecco qua, oppure sei Amazon. Vi racconto una cosa, il potere del brand. Non è dunque il fatto che la chiave di brand si posiziona per prima, se non è ambigua la chiave di brand si posiziona per prima, ok? È facile, ma che volume di ricerca ha questa chiave? Ok, quante persone ogni mese cercano SEO Garden? Questa cosa incide. Allora, tutto il mio intervento si può riassumere in questo, dopodiché me ne vado, ok? Si può riassumere così. Se domani mattina, adesso ci avrà tipo 350 persone al mese, dati Semrash, se non mi sbaglio, mi dice che 350 persone ogni mese scrivono SEO Garden su Google, ok? È un volume di ricerca. Considerando la SEO non è alto e non è basso. È dignitoso. Se domani mattina Google percepisse che 10.000 persone al mese cercano SEO Garden su Google per ricerche inerenti alla SEO, quello che sto cercando di dirvi è che indipendentemente da tutto i posizionamenti per chiavi di ricerca migliorerebbero. Migliorerebbero per link building, posizionamento nei motori di ricerca, le chiavi che fanno le persone, preventivo SEO, ok? Le chiavi che le persone cercano per servizi. Migliorerebbero indipendentemente dalla qualità strutturale del sito, indipendentemente dal profilo backlink del sito, soltanto perché aumenta il volume di ricerca sulla chiave di brand. Mi è capitato di fare una consulenza poco tempo fa a un sito e-commerce di materiale elettrico e questo sito grossissimo, aveva 80.000 prodotti, un sito molto grande e mi dicevano guarda noi, io avevo notato che questi facevano indicizzare le pagine risultanti dalle ricerche interne. Cioè sapete che nel sito e-commerce c'è il motore di ricerca interno, tu dentro ci scrivi una cosa e a certe condizioni Google può indicizzare quel risultato, il risultato della ricerca interna. E io gli ho detto ragazzi no, perché in questo modo voi già avete una situazione da mettere a posto perché avevano un sacco di altre questioni da aggiustare lato SEO. Se poi date in pasto al crawler di Google altre decine di migliaia di pagine risultanti da questo, mi seguite? È importante. Appesantite ancora di più la scansione del sito, rendete la vita molto più complessa per il bot e succede un casino, risposta del tecnico. Eh ma guarda che però Amazon indicizza i risultati del motore di ricerca interno, infatti se cerchi tende da sole, escono proprio i risultati con il parametro di ricerca, slash s punto interrogativo, cioè sono url, voi mi seguite, voi capite cosa sto dicendo, sono url che hanno un parametro, sono parametrate, hanno il parametro di ricerca, sono risultanti da una ricerca interna e Amazon le lascia indicizzare e quindi è una best practice, quindi vuol dire che se lo fa lui funziona, e devo farlo anch'io. Amazon ha 700.000 persone che ogni mese scrivano Amazon su Google, ok? 700.000, tu quante ce ne hai? A queste condizioni Google apre il rubinetto e puoi fare quel cavolo che ti pare. La SEO di Amazon è perfetta? Domanda, risposta, no! Non è perfetta neanche per niente, è migliorabile su molti punti, peraltro è un casino. Ciò non toglie che ottenga dei grandi posizionamenti, perché? Per il brand, ok? E anche perché come mi diceva in inglese Mark da Philadelphia, certamente loro hanno anche tante altre, ti portano tante cose, presto fanno Mark, mi guarda e sorride, dopo Mark. Allora, va bene. E dunque, voi capirete che in generale, la chiave di ricerca, la chiave di ricerca, devo dire ricerca, non devo essere come quel mio amico francese, Walid, che fa ricerca, la chiave di ricerca è una roba che ha un volume di ricerca mediamente più alto. Se io cerco scarpe online, volume 33.100, scarpe online, classica chiave di ricerca. Scarpe asso online tende ad avere un volume di ricerca più basso. E quindi non dovremmo lavorare sul brand, invece sì, dobbiamo lavorare sul brand. Io cerco di essere breve oggi, perché vorrei provare a farvi fare qualche domanda, vediamo se ci riesco. È possibile fare campagne di brand? Se pigliate un brand come Cuore, ad esempio, quelli della staccionata, vero? Che saltavano la staccionata per essere in forma, hanno fatto un blog con l'obiettivo di diffondere informazioni sulla salute. Quindi l'idea è che prendendo l'olio Cuore, in effetti rimani in forma. E quindi i fitosteroli un aiuto alla natura contro il colesterolo. Quindi ti danno informazioni con il desiderio che si posizionino. Cioè tu stai cercando informazioni sul colesterolo e ti imbatti nel blog di Cuore. È un modo per fare brand, attraverso il motore di ricerca. L'idea sarebbe questa. Ma Cuore è un brand già posizionato storicamente, perché negli anni 80, ieri ero piccolo, c'era il tizio che saltava la staccionata. In realtà si potrebbe, per tanti brand ancora poco conosciuti, molti lo fanno, fanno un bel lavoro sui blog per posizionarsi su Google, con questo tipo di chiavi legate alla salute, eccetera. Per esempio una ditta che fa confetti può sviluppare un blog dove parla del matrimonio, degli aspetti delle cerimonie in generale, e guadagnare traffico. Allo stesso tempo una campagna Facebook per la stessa azienda, con un numero di like maggiore, facendo crescere i like, può aumentare il potere contrattuale. Cioè un'azienda potrebbe entrare più facilmente nella grande distribuzione che ha dei costi all'ingresso importanti. Dimostrando di avere dei buoni posizionamenti, del buon traffico, si può fare tanto. In questo senso, diciamo, per quanto riguarda l'esempio di cuore è una mossa tesa a conservare anche su Google un posizionamento acquisito. Allora, partiamo. Come si fa? Quanto tempo ho ancora? Il vuoto pneumatico. Ah vabbè, io tanto parlo. Allora, una cosa che faccio io spesso è aprire Semrush e infilare il sito nella ricerca dei siti web in topic. Lui li chiama competitor organici. Io non tanto sono d'accordo a chiamarli competitor perché non sono sempre concorrenti diretti, vero? Molto spesso sono siti che hanno un modello di business completamente diverso. Questa, vabbè, è una lista che non vi dice niente. Io sono bravo a fare slide, lo sapete, no? E quindi c'è che quando tu, ecco qua, quando sviluppi una lista del genere escono fuori centinaia di siti che si posizionano per chiavi in comune. Il modello di business può essere completamente diverso. Magari tu hai un e-commerce ed escono blog, forum, giornali, siti di associazioni. Quindi siti che non hanno proprio niente a che vedere, non sono concorrenti, sono alleati, sono persone con le quali dobbiamo cercare di entrare in relazione. Ok? Quindi un software, in questo caso io utilizzo Semrush, però ce ne sono sicuramente altri, che estraggono questi siti, il cui unico torto, diciamo, è avere chiavi in comune, posizionano chiavi in comune. Si posizionano per le stesse chiavi del mio sito di interesse. Dopodiché me le apro tutti, questo è uno degli esercizi più belli che potete fare, se vi occupate del marketing online. Estraete una di queste liste e passate un giorno ad aprirli tutti. Sono qualche centinaia, anche un paio di giorni, dieci minuti. Fantastico. Ok, fatto questo, fatto questo, potete cominciare a ragionare in termini di digital PR ottenendo menzioni, backlink, guest post. I guest post non li dovete cercare su siti che vendono guest post perché sono continuamente attenzionati da Google e quindi domani mattina Google incrocia i dati e penalizza tutti. Cercate risorse trasversali. Vi faccio un esempio, un tour operator siciliano che organizza le escursioni sull'Etna non può ottenere facilmente link, non li può ottenere dai concorrenti perché non glieli danno. Dai blog a tema turistico sì li può ottenere però costano. E allora se facciamo un passo di lato senza cadere dalla pedana potremmo accorgerci che ci sono tanti siti web e-commerce che vendono materiale per escursioni. Ok, le tende, i sacchi a pelo. Allora se avete la lucidità di fare un passo di lato, io no, vi accorgerete che questi siti e-commerce hanno spesso un blog. Quindi tu sei un tour operator che vende i pacchetti di escursioni sull'Etna. Il sito e-commerce che vende materiali per le escursioni, per fare tracking, molto spesso ha un blog e ha un bisogno dannato che qualcuno gli offra gratuitamente dei contenuti. Non c'è nessuna concorrenza e magari ci nasce pure la partnership. E allora smettetela di capire dove comprare i link e cominciate a ragionare su cos'altro interessa alle stesse persone che devono offrire quel sito. Chiaro? Quindi un ragionamento del genere però, attenzione, richiede molta osservazione perché non sempre i software vi danno questi siti di ordine trasversale. Ok? Interessano le stesse persone ma spesso a questo livello, nell'esempio che vi ho fatto poc'anzi, ci muoviamo diversamente. Io voglio, ma non riesco a dirvi niente di divertente oggi, io di solito preferirei raccontarvi barzellette ma oggi non ci riesco. Allora quindi proviamo a farci qualche domanda su questo, ecco rispetto al comment marketing che è un'altra mossa per fare brand building. Allora se vogliamo fare brand building cerchiamo nei commenti sui siti a tema commentabili, i siti a tema li abbiamo visti prima come si estraggono, cerchiamo di infilare commenti di senso compiuto che facciano occorrere la chiave di brand più le nostre chiavi di ricerca. Google scansiona tutto il testo della pagina e quindi potrebbe via via capire che asso significa scarpe. Cioè se io creo un tappeto dimensioni cominciando a lavorare 15 minuti al giorno per un anno commentando non in modo wow nice post ma commentando di senso compiuto, scrivendo cose che hanno un senso, facendo occorrere la chiave di brand e la chiave di ricerca, Google che scansiona tutto il testo della pagina finirà col capire che asso significa un po' di più scarpe rispetto a prima. Quindi questa è una mossa utile a livello semantico per far capire a Google di che stiamo parlando. I link no follow da Facebook, sapete che i link da Facebook hanno di default l'attributo no follow, vuol dire che non trasmettono potere in termini di posizionamento, però attenzione se trasportano visite possono incidere sul posizionamento, quindi incidono in modo indiretto anche i link da Facebook. Chi scrive l'azienda a una persona qualunque, questo conta perché dovete capire come generare interazione sui post. E quindi farvi domande anche di questo genere, quindi chi è che sta scrivendo commenti, abbiamo detto concorrenza di brand key più search key, come trovare le pagine su cui commentare, ve l'ho detto, aprendo tutti i siti web a tema e guardando che sono, che cosa fanno e come sono fatti e soprattutto stabilisci relazione con i commenti. Allora il posizionamento non è essere primi su Google, il posizionamento è venire in mente alle persone. Sono credo l'unico seo in Italia a dire questa cosa, va bene? Il posizionamento. Quello su Google è una conseguenza, quindi dovete stabilire relazioni autentiche con le persone, non un link e basta, non è mordi e fuggi. Se sei una mamma blogger e c'hai un sito sulle mamme che curano i bambini, appunto, li accudiscono, puoi contattare una food blogger e chiederle di fare insieme ricette da fare con i bambini, potrebbe essere quindi, però non una ricetta sola, tieni una rubrica. Ok? Va bene. Vado velocissimo. Ah, passiamo dalle mamme al porno. C'è una cosa bellissima, una ricerca che ha fatto Ruben Vezzoli qualche anno fa, che metteva in evidenza come il marketing di Pornhub abbia, voi sapete tutti che Pornhub ha i posizionamenti più importanti, qualunque ricerca facciate per motivi strettamente professionali sul porno, esce sempre tra i primi risultati Pornhub, sempre Pornhub, Pornhub. Perché? Questa cosa è cominciata dal 2013 con tutte le mosse di comunicazione di Pornhub. Ecco, fundraising per la lotta al cancro al seno. Cosa guardano gli americani su Pornhub? Delle mosse di comunicazione che hanno portato anche i giornali generalisti a menzionare Pornhub. Anche la semplice menzione, questa cosa ha inciso, perché ha aumentato tantissimo il volume di ricerca sulle chiavi di brand e si sono stabilizzati anche i posizionamenti delle chiavi di ricerca. Provate, lo so che provate già per motivi professionali, continuate a provare per motivi professionali, capirete tante cose. Mi rimane pochissimo tempo. Creare un trend, il trend può portare traffico a scrivere una chiave, quindi se voi mettete fuori la notizia che Pippo Baudo è morto può darsi che molti vadano in giro a cercare questa cosa e quindi il volume di ricerca su Pippo Baudo cresce. Non è un modo carino per fare un contenuto virale, un modo carino per fare un contenuto virale è la storia del co-privater, che io ho fatto un po' di tempo fa. Avevo fatto una pagina sul mio blog che era come diventare web co-privater, in cui il contenuto era serio, cioè davo delle indicazioni su come diventare web copywriter. Nel testo il termine copywriter scritto bene non compariva mai, ok? La questione è diventata virale perché a un certo punto qualcosa qualcuno, non io, ha preso uno screenshot e ha cerchiato co-privater e ha detto ma guarda questo non sa proprio scrivere. È successo un casino a quel punto perché a macchia d'olio su tutte le pagine facebook satiriche, guarda questi che fanno dicono eccetera eccetera, si è cominciato a parlare tantissimo di questa cosa. Poi sotto ogni discussione arrivava uno e diceva no guarda quello è Francesco Margherita, è un CEO italiano, sicuramente sta facendo un test, ok? E quindi le persone hanno parlato di questo, divertite, qualcuno ha parlato anche di me. Il risultato è che il contenuto si è posizionato per come diventare web copywriter, scritto giusto, scritto giusto. E allora se riesci anche in un modo simpatico, magari senza dire che qualcuno è morto, a portare attenzione sui tuoi contenuti, a far parlare gli altri, Google ne è sensibile. Ragazzi ma noi di posizionamento su Google parliamo, io faccio SEO per vivere, ok? Però vi sto parlando della SEO proprio da un altro punto di vista che va al di là del codice, va al di là dei link. Sto parlando delle persone, vi parlo di questo, voi dovete capire le persone, dovete acchiappare le persone, magari nel modo giusto, questa è un'altra grafica che qualcuno ha fatto, poi è stata divertente sta cosa, non riesco a farmi fare le domande. Quindi vi lascio con tre verità. La prima è essere presenti perché dovete guardare quello che succede, quando succede, proprio come fanno i social media così, uguale. Siate reattivi alle cose e la terza è assolutamente fare rete, fare rete, quindi non cercate la botte via, non cercate la relazione mordi e fuggi, cercate la relazione vera. Perché una buona domanda è tutto ciò che ti separa da realizzare qualunque cosa e aggiungerei se vuoi, puoi. Grazie. Io sono andato veloce come un treno, se avete capito qualcosa siete molto più bravi di me. E dunque, mica ci sono domande, no. Ma come va? Sì. No, allora. No, 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 allora. No. Allora, esisteva già, non me lo so inventato io il termine coprivater, per dileggiare scherzosamente i copywriter, è una roba che nelle agenzie di comunicazione si dice già da almeno un decennio, ok? Cioè è uno sfottò, ho preso un nervo scoperto perché i copywriter un po' gli brucia quando qualcuno li sfotte, coprivater, no? E allora ho fatto l'articolo facendo finta di sbagliare, cioè tutte le volte compariva scritto male. La cosa interessante è che ci sono cascati, ci sono cascati proprio tutti. Cioè pensavano che io non sapessi scriverlo, molti perché giustamente, come era giusto che fosse, non mi conoscevano, non sapevano chi fossi e quindi c'è un meccanismo di semplificazione che porta le persone a dire eh ma guarda quello, ma guarda quello, guarda quello, intanto sono cresciuto tantissimo in popolarità e ho aumentato anche il volume di ricerca sulla mia chiave di brand nome e cognome e in più ho ottenuto il posizionamento, quindi il test ha funzionato. Poi avevo fatto anche come diventare venditore di sul cesso, però quella è un'altra storia, non ha funzionato, non è andato bene. Ci sono altre domande? No? Ok, allora tutti a casa a vedere Pornhub. Ciao! Grazie Grazie.